Siamo nel backstage di M1992 e il make-up per questa sfilata è un make-up che celebra una vacanza caprese, un qualcosa di veramente solare, è come se ci elevassimo e guardassimo dall'alto quello che avviene nell'isola di Capi d'estate, perciò il movimento, il fermento, tutto quello che è la voglia di vivere e la scelta di questo make-up è quello di enfatizzare le labbra, semplicemente per dare voce alle donne, una labbra in primo piano che possono veramente dare l'opportunità a ogni donna di esprimere quello che sono, perciò se vogliono essere sensuali, se vogliono essere particolari, se vogliono essere uniche, per questo la scelta è stata di utilizzare un corallo, che è il pantone dell'anno, e un corallo vibrante, con il gloss, proprio per dare freschezza, luminosità a un'estate italiana.